Devo liberarmi, me non c'è posto, devo liberarmi di questo mondo corrotto, il mio pensiero lo esprimo quando mi pare, il mio pensiero mi fa rilegare. La superficialità della mia generazione, il pregiudizio incondizionato, l'ipocrisia credente nelle persone e la fierezza di essere omologato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.